Un torneo in costante crescita che quest'anno si rinnova ancora. Così si presenta il trofeo Memoria all'Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Alto Pascio e giunto alla 23esima edizione. Dal 1 al 17 settembre il trofeo, dedicato ai giovanissimi B, chiamerà raccolta società professionistiche e dilettantistiche da tutta la Toscana. Tutto ciò senza dimenticare che per la sesta edizione della Supercoppa Cordischi, in programma il 20 settembre, e a cui accede la vincitrice del trofeo, arriverà come di consueto anche l'Inter, a conferma del connubio che lega ormai in modo indissolubile la società Amaranto a quella nero-azzurra. Questo Memorial è una cosa voluta, diciamo così, 23 anni fa da me, dopo la scomparsa di un amico, un amico caro, con il quale abbiamo vissuto momenti importanti, secondo me diversi da quelli di ora, perché una volta nei paesi eravamo molto molto legati, quindi è un ricordo che mi fa venire i brividi tutt'ora. A settembre è un torneo di riferimento, categoria giovanissimi B, quindi una categoria importante per la prossima stagione, dove magari ci sono ancora dei talenti importanti in tutte le squadre che partecipano, perché a questo torneo hanno partecipato i vari bernardeschi, chiesa e così via, giocatori che oggi si stanno affermando a livello internazionale. 16 squadre in tutto, 7 professionistiche, nel cui gruppo va ad aggiungersi la SD Tau Calcio Alto Pascio e 8 dilettantistiche. Fiorentina, Livorno, Pisa, Pontedera, Pistoiese, Prato, Lucchese, Tau Calcio Alto Pascio, Sportingarno, Pisa Ovest, Maliseti, Poggi Bonzese, Venturina, Zenic, Audax, Sestese e Don Bosco Fossone.